Sono stati consegnati ieri presso il teatro Aldo Gioffredi Battipaglia i premi per i giovani soci e i figli dei soci della BCC Banca Campania Centro, nelle categorie medie, maturità e lauree. L'evento, che negli anni si è affermato come importante momento di condivisione, grazie anche alla presenza di grandi nomi del panorama culturale, ha visto la partecipazione di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro. Con lui si è discusso di legalità e istituzioni, insieme al professor Marcello Ravveduto, docente dell'Università degli Studi di Salerno e la dirigente scolastica dell'Istituto Enrico Medi di Battipaglia, Roberta Talamo. E' stato anche presentato il progetto Costituzione e Cooperazione, promosso dalla Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia, in collaborazione con la BCC, il Liceo Medi e il Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno. In seguito sono intervenuti gli attori Artem e Antonio Refice. Nel convegno il cinema racconta la legalità. I due hanno raccontato ai giovani in sala la loro esperienza sul set e l'importanza di diffondere una cultura della legalità attraverso il cinema. Al margine sono stati consegnati i premi ai giovani meritevoli, che si sono distinti nel campo scolastico.